ci ritroviamo in compagnia di perturbazione ciao tommaso bentrovato grazie per l'ospitalità grazie a te io inaugurerei questa nostra chiacchierata partendo dalla vostra nuova uscita discografica che arriva a quattro anni dal precedente album di inediti si tratta della rilettura dal vivo della buona novella di di andrè e partirei da questa scelta chiedendovi cosa vi ha spinto a confrontarvi con un'opera che è considerata da molti una pietra miliare della canzone d'autore italiano è una lunga storia che comincia nel 2010 quando la scuola olden di torino che è una scuola che si occupa di narrazione allora incaricò il musicologo alberto iona di organizzare un evento per il quarantennale della buona novella in occasione di un restauro importante che c'era stato a varallo cesia che sta nel norese una valle su di là dove c'è un sacro monte con una via crucis con tutte le cappelle con queste state le linee a misura in scala reale c'era questo grande restauro alberto iona ci chiamò dicendo per il quarantennale della buona novella vorremmo vorremmo fare un evento su questa cosa qua vi sentite di risuonarla integralmente e sebbene conoscessimo cioè diciamo ognuno aveva il suo disco preferito di andrea come dire siamo andati proprio a riscoprire quella quel lavoro onora cioè come dire lusingati no onorati proprio di fare questa cosa qua e buttarci dentro quelle che sono un po le trame nella scrittura di fabrizio di andrea di quel disco alberto ci chiese di aggiungere due voci una di una generazione più giovane una di generazione più matura ragioniamo un po e verrà fuori alessandro raina che allora adesso lavora molto come come autore ma allora ha cantato quei giardini di mirò e morfu e ci piaceva per cui chiamiamolo lui e poi venne fuori l'idea di provare a coinvolgere nada perché è un artista incredibile e perché le voci della buona novella molto spesso sono voci femminili sono donne che parlano finalmente visto che spesso nei vangeli come dire gli evangelisti quelli che conosciamo sono sono tutti uomini e parlano di prevalentemente di uomini invece una delle fonti insomma con cui lavorò fabrizio d'andrea erano gli vangeli apocrifi e c'erano tante storie di donne e quindi è venuto fuori insomma questo caso sul palco c'erano sei musicisti perché c'era con noi anche un altro un altro musicista polistrumentista di torino si chiama dario mimmo avevamo il violoncello di elena la fisormonica tanti timbri diversi e ci avventurammo a riarrangiare cioè come dire a dare la nostra lettura di quel lavoro senza il timore reverenziale di di pensare e immaginare cioè esattamente come il verso di fabrizio d'andrea dice non voglio pensarti figlio di dio ecco di andrea non voglio pensarti come una cosa intoccabile voglio rispettare il lavoro che hai fatto ma provo anche a far parlare qualcosa della della mia anima facendo quel lavoro il risultato fu una serata sola molto importante nel teatro di varallo sesia quel 28 ottobre del 2010 che poi non riuscimmo a replicare perché c'era in corso un disco che era uscito da poco nostri inediti mille cose per alla fine non venne mai replicata ma la registrarmo bene quei file finirono in un cassetto pensando ok è teatro è difficile rendere quella cosa teniamola come una cosa preziosa un ricordo poi un amico un fonico che aveva quei file un anno fa circa ce l'ha mandato indietro dicendo guardate anche io facevo pulizia li ho riascoltati e secondo me materiale molto molto affascinante provate da danni un ascolto abbiamo fatto e ci ha colpito allora a nostra volta abbiamo andato a nada e alessandro raina dicendo cosa ne pensate noi ci piacerebbe provare a pubblicarlo è passato del tempo ma ci sembra un bel lavoro anche loro erano entusiasti all'idea allora luca bernini che è il nostro sodale project manager ma soprattutto siamo psicologo io dico sempre perché siamo appunto un po da seguire allora luca la fa sentire la warner italia e grazie a loro insomma siamo riusciti a pubblicarlo in vinile in cd ed esce il 22 marzo questa è la storia quindi la formazione quella originale del 2010 c'è un sestetto più questi queste altre voci nada alessandro raina dario mimmo e per chiudere questa cosa insomma adesso lo presentiamo alla feltrinelli di torino e di milano il 22 e 26 marzo e stiamo cercando anche speriamo di riuscire a suonarlo qualche volta nell'estate dal vivo come siamo adesso un quartetto quindi in realtà stiamo risuonando c'era ed è ancora una rilettura perché ovviamente stiamo cambiando gli arrangiamenti rispetto a quello che è il suono nostro adesso qui è un bel viaggio è diciamo un guardarsi indietro e scoprire che una delle cose che hai seminato al fine sono un po cresciute come una pianta un seme che si infila qualche parte pensi no è finito lì nell'asfalto e poi truffa esce fuori quel fiore wow bello no bello bellissimo viaggio e quello che mi incuriosisce chiederti è in un'epoca come questa così frenetica e veloce per alcuni il concetto di concept album è quasi desueto diciamo pure che stanno sparendo gli album figuriamoci i concept album ci stiamo avvicinando all'epoca delle playlist o forse ci siamo già dentro per questo credo sia ancora più importante il valore di questa vostra operazione per riportare al centro dell'attualità anche un modo di fare musica che si sta affievolendo qual è il tuo pensiero a riguardo non so se noi siamo al centro dell'attualità mi sento un po ai margini dell'attualità devo dire così però però grazie no io penso penso che siano corsi e ricorsi penso che hai detto bene in questo momento la musica si è consumata come dire con un click e via tanti quei famosi skip illimitati che ci pubblicizzano ma in realtà credo che se pensiamo proprio alla storia un po della della musica popolare e nella fattispecie del rock elvis presley e soci insomma compagni avella ci ha messo va dal 56 al 66 67 no un decennio per capire che un 33 giri che nel frattempo era entrato sul mercato come come la tecnologia influenza sempre le nostre scelte poteva essere non soltanto una raccolta di canzoni ma anche come dire un affresco non soltanto una raccolta di istantanee ma quelle istantanee potevano fare parte di un quadro più grande ecco e venne fuori dice sono definiti quei dischi fondamentali come sergent pepper per sounds per i beach boys eccetera da una parte dall'altra delle sponde dell'oceano cominciarono così di andrea ascolta quei dischi comincia a fare tutti morì mastento e poi la buona novella eccetera quindi non al denaro e così via sono dischi influenzati infatti da da quell'idea più cinematografica anche di di suono no con giampiero reverberi e roberto danè lavorano su questa produzione che una delle cose fighe di andrea secondo me che sempre di andrea sempre lui con la sua voce calda la chitarra c'è sempre quell'intimità però ha sempre dato spazio ai musicisti con cui lavorava per cui ai proprio dei periodi suoi di suoni che cambiano e ci senti sempre l'altra penna non ha mai stancato nel senso che non avevi mai la sensazione dire riascolto sempre come dire sì ma non cambia mai musica no invece gli arrangiamenti erano importanti e in questo caso c'era c'era un sacco di roba io credo per concludere venire alla tua domanda che presto o tardi l'idea di avere appunto tanti piccoli bocconi sparpagliati sul tavolo un po a buffet così che prendi tu come vuoi magari poi quella roba di ci si stanca e ritorna alla voglia di dire no però voglio l'impiattamento di questa cosa lo voglio lo voglio diverso ma lo voglio preparare bene voglio che abbia un'armonia sua voglio che sia metafora di qualcosa nel mondo che riesco a raccontare in modo più io non sono un consumatore attento di musica delle nuove generazioni per forza di cose per fatica anagrafica figli da inseguire e portare in giro col taxi che la mia macchina insomma tutte queste cose genitori che invecchiano eccetera quindi non sto dietro a tutte le cose ma leggo ogni tanto invece qualcuno dice ok ho fatto un concert album cioè sono che non deve essere una roba che pensiamo cioè la pensiamo un po figli del progressive e quindi come una roba che deve essere impegnata non è per forza questo semplicemente che se hai tante canzoni che stanno in un ambiente urbano magari chiuse dentro la tua cameretta ma quella cameretta si affaccia su un mondo su una città magari in questo rapporto vuoi provare a spostare come dire la macchina da presa all'interno di quello spazio ecco che poi su uno spazio urbano uno spazio quotidiano eccetera è come dire l'idea che che non hai un punto di vista solo ma ne puoi avere tanti sullo stessa questione ok sì concept album non è una brutta parola possiamo dirlo no 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 in generale la parola album è un po quella roba lì ecco certo assolutamente e de andrè scrisse la buona novella nel 69 in piena lotta studentesca e la considerava un po un'allegoria di quel tempo mai come oggi questo è un disco che si adatta tematicamente anche a quello che viviamo purtroppo se pensiamo che ci sono guerre in atto una in particolare si fonda su antichissimi dissidi religiosi ti chiedo tommaso in un'opera ricca e complessa come questa tu ci trovi più domande o più risposte a quella ai temi a quello che ci circonda sì sì sicuramente domande perché le domande sono fondamentali nel nell'espressione artistica credo che l'espressione artistica sia una domanda la risposta la mette chi ti sta guardando sempre e credo che che sia la forza ecco la bontà di un lavoro come la buona novella è proprio che ecco credo che a livello narrativo di andrea abbia realizzato questa cosa decidendo di non parlare mai in prima persona facendo parlare gesù cristo parlano tutti i personaggi attorno qualcuno lo chiama redentore qualcuno charlatano e lui non ti dice cos'è delle due cose ti dice che il potere prenderà una persona un essere umano con tutti i suoi desideri le sue incertezze e lo renderà personaggio lo strumentarizzerà e farà demagogia ne farà mistificazione secolarizzazione tutta questa cosa te la sta raccontando di andrea e ti dice anche guarda che quelle persone attorno erano esseri umani anche loro con tutte le loro imperfezioni quindi maria e giuseppe non sono le figure di un presepe ma sono sono esseri a tutto tondo e ci restituisce quella cosa è un'allegoria sicuramente anche del 68 è stato detto tanto rispetto alla buona novella ma secondo me parla molto al presente perché è un presente di mistificazioni il nostro lo vediamo appunto nelle guerre in corso che sono basate fortemente su sulla propaganda è ovvio che la giustizia come dire i pesi dei contendenti ci sono storicamente però come dire il messaggio quel messaggio lì del vangelo era figlio di gesù cristo lui dice è rivoluzionare nel senso che prova a ribaltare quella visione sempre antitetica ecco e rimane quindi così com'è rimasto insomma tutta quella quel bagaglio di cose che poi porta alle grandi religioni monoteiste che che si contendono in qualche modo quei territori ma partirebbero dall'idea di dare conforto allo spirito e non di mettere gli uomini gli uni contro gli altri ok perfetto e oltre questo progetto che come ci anticipavi presenterete dal vivo a torino a milano e magari anche la prossima estate mi incuriosisce chiederti se nel 2024 ci saranno ci regalerette praticamente altra musica senza girarci intorno se state lavorando anche a qualcosa di nuovo in questo momento no avevamo lavorato su delle canzoni dopo disamore che è uscito appunto in corrispondenza della pandemia e fu un timing che non scegliamo noi come nessuno della nostra umanità insomma attorno a noi ha potuto vivere quel tempo se non nel modo in che gli era dato ecco quelle canzoni erano non ci trovavamo non eravamo allineati non eravamo contenti per quello abbiamo qualche canzone uscita l'abbiamo messa in un cassetto chi lo sa anche quelle magari vivendo questa esperienza riusciremo a tirarle fuori e risuonarle una cosa abbiamo fatto in realtà ci sono stati due anni di sosta di base ciascuno di noi è stato dietro un po le sue vicende faccende professionali e umane familiari genitori che diventano più anziani ci si occupa di loro quindi faccende personali ma anche credo che fosse un tempo di sosta e di riflessione che nasceva da tutta l'esperienza cioè non si può vivere una pandemia e tutto quello che abbiamo vissuto e il giorno dopo far finta che come diceva gaber far finta di essere sani ecco non si è sani ci vuole del tempo pensato stiamo fermi ascoltiamo e proviamo a vedere è uno dei regali che è tornato indietro è stata la buona novella quindi in questo momento vogliamo vivere quella cosa sperare di riuscire a suonarlo magari qualche volta quest'estate e dopo vedremo quindi questo va bene così vivere il presente esserci ora e qui e ora prima di farti l'ultima domanda tommaso quest'anno ho una curiosità perché quest'anno ricorrono i dieci anni dalla vostra partecipazione a sanremo in questo lasso di tempo il festival è molto cambiato specie se pensiamo alle ultime edizioni amministrate da amadeus ti chiedo che ricordo hai di quel passaggio e come valuteresti l'idea oggi di poterci tornare è un ricordo dolce e amaro insieme nel senso che arrivarci da gruppo è stata una cosa appassionante perché tra l'altro un'anomalia insomma i gruppi a sanremo sono sempre una roba strana che sia un paese un po più individualista un po più sull'individuo meno su la società non sappiamo i nostri i nostri problemi italiani diciamo eppure fu un'esperienza molto elettrizzante divertente anche rastornante allo stesso tempo si stava consumando un po quello che era la nostra piccola lacerazione interna nel senso alla fine poi ci generano hanno lasciato il gruppo separandosi anche tra di loro come coppie e quelli che erano piccoli conflitti creativi e umani insomma alla fine sono forse è stato un detonatore quella cosa di ma non penso che sarebbe semplicemente successo tutto lo stesso probabilmente quell'anno molto molto elettrico molto molto forte ha accelerato i processi e quindi è un ricordo ci sono tutte e due le cose come quasi tutti i nostri ricordi io credo che nessuno di noi abbia ricordi come nei film funziona la commedia o la tragedia di solito la vita è più fatta di di grigi di sfumature sicuramente da quell'esperienza noi ci siamo portati via il fatto di è stato divertente stare dentro quel mondo più smarcatamente pop come dire e penso che non non so non abbiamo tanto forse la la frequenza d'onda per quel tipo di comunicazione che è molto veloce molto come dire deve avere una una spontaneità una proprio come dire una sfacciataggine ecco che personalmente almeno proprio come voci sono sono un po io che che mi occupo di questa cosa non ho proprio la la spigliatezza ecco pronte via e quindi dentro quel mondo faticato probabilmente e e poi nell'arco degli ultimi dieci anni in realtà siamo quelle che erano cose che in realtà sono state sempre la nostra diciamo storia cioè lavorare con riferimenti più letterari e quindi un po più col teatro con con la letteratura e così via è un po una cosa che abbiamo continuato a fare lavorando col teatro stabile di torino con teatro ragazzi torino con bau publishing c'è chi ci affascina di più quella cosa lì no lavorare sul teatro di natalia ginsburg è stata ispirazione per disamore così via non so cioè non è facile riuscire ad avere continuità e noi sicuramente abbiamo disperso tante energie perché siamo così ci vengono tante robe poi è per quello anche che dicevo dobbiamo imparare forse a vivere meglio il presente a non affannarsi troppo a seguire numeri e cose quindi boh non credo che non so è affascinante io lo vedo sempre poi mia figlia Emma ci divertiamo molto il divano cioè forse adesso mi diverto di più dal divano con le cantine e dice insomma commuovendosi in qualche momento e poi prendendo in giro insomma come si fa con quel disincanto con cui si guarda quel festival piuttosto che pensare wow voglio stare lo soffatto ok ok per concludere un po riallacciandoci a questa domanda e a proposito del fatto che i gruppi in italia rappresentano quasi un'anomalia come dicevi poco fa se ho fatto bene i conti quest'anno celebrate 36 anni di carriera insieme non dico che sia atipico ma le storie dei gruppi parlano da sé devo dire anche a livello internazionale se pensiamo a un complesso come i Beatles e alla fine è durato dieci anni lasciamo stare la pagina di storia le pagine di storia che hanno scritto in quel decennio però il lasso di tempo era quello quindi mi incuriosisce chiederti qual è il segreto di questa vostra convivenza e di conseguenza della vostra longevità sai che non saprei è un mistero è un po come il mistero della fede bisogna avere un po di fede no direi che come ti ho raccontato in realtà si sono consumati c'è stefano uno primo bassista a un certo punto sceso dal furgone così è successo a Gigi Elena non tutti hanno voglia di continuare il viaggio quando io sono andato in crisi tre anni fa ne ho parlato con rossano con chris con Alex e ho detto poi non mi non strumenta non ho nessuna voglia di strumentalizzare queste cose fare dichiarazione di resi siamo sciolti e se avete pazienza avete voglia congeliamo le cose lasciamole lì tranquille scompariamo e scegliamo l'invisibilità invece di dover essere a tutti i costi presenti nella quotidianità che è un po il modo di comunicare adesso lo stilicidio la goccia che scava la pietra ma non è una cosa che funziona tanto non ha funzionato è stancante alla fine per cui è meglio quando è una cosa da dire dirla poi rispettare un religioso silenzio ecco penso che però in generale cerchiamo di volerci bene avere cura gli uni degli altri e stiamo anche cercando di imparare appunto dal tempo il fatto che maturare vuol dire anche invecchiare vuol dire anche essere più stanchi vuol dire non riuscire più probabilmente a fare tutti quei chilometri in furgone eccetera ogni ogni epoca della propria vita al proprio tempo come dire. Tommaso io ti ringrazio per essere stato con noi a voi invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a scoprire approfondire questo vostro nuovo progetto la buona novella e grazie per averne parlato con noi alla prossima tutto un piacere